Consigliera, a quanti nell'opposizione sostengono che il referendum è un inganno perché ci sono dei costi elevati, perché comunque c'è già l'accordo tra tutte le parti politiche? Lei che cosa replica quest'ora? Replico che non è un inganno e bisognerebbe dimostrarlo. Replico che il 4 dicembre ce n'è stato uno di referendum e chi ha propugnato il sì si è ritrovato un bel no. E oggi alcuni che criticano stanno facendo i comitati del sì. Dunque il nostro referendum ha un valore. Ha un valore perché la regione Lombardia è la prima regione e se noi guardiamo il residuo fiscale, 10 regioni danno, è la più alta la regione Lombardia, 54 miliardi, e 10 prendono. È il più alto la Sicilia che ha statuto speciale. Quindi il referendum serve perché la gente possa dire allo Stato lascia più risorse in una regione dove si sta governando bene.